Ciao, benvenuta all'interno del mio programma completo. Con questo video voglio mostrarti passo dopo passo quello che troverai dopo esserti unita al programma completo. Allora, questa prima pagina è il tuo profilo, quindi il tuo primo punto di riferimento per poi iniziare. Accediamo immediatamente al programma completo. Ecco qui, questa è la tua dashboard, il tuo punto di riferimento per tutte le volte in cui tu ti vorrai allenare o consultare i contenuti premium del mio sito. Primo step, iscriversi alla community, alla comunità esclusiva che è su Facebook. Non è obbligatorio, ma senz'altro ti potrà aiutare per avere come punto di riferimento l'esperienza di tante altre donne come te che stanno seguendo il mio programma. Quindi ti potrai confrontare, condividere il percorso, fare domande e ricevere naturalmente risposte. Secondo punto, seconda sezione, secondo me molto importante e che è estremamente formativa, ovvero la Bright & Fit TV Premium. All'interno di questa TV troverai tutti i video che non sono presenti naturalmente nell'area gratuita. Sono video altamente formativi che ti permetteranno in primo luogo di formarti e in secondo luogo di perfezionare ancora di più i risultati con contenuti esclusivi di qualità con piccole strategie per potenziare i risultati che già stai ottenendo con il programma completo. Poi la dashboard è suddivisa a sua volta in quattro aree fondamentali, che sono le aree dell'azione. La prima area d'azione naturalmente è quella degli allenamenti, dove tu ti andrei a allenare. Adesso andiamo a vederla. Seconda area nutrizione, terza area i tuoi progressi, quarta area i bonus. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Prima sezione, gli allenamenti. Come puoi vedere, la sezione allenamenti è strutturata per permetterti di iniziare con qualsiasi livello di partenza. Quindi che tu sia una principiante o che tu sia già un livello avanzato, tu ti potrai iniziare ad allenare. Quindi è il livello beginner, intermedio, avanzato. Sotto questi tre livelli troverai i consigli utili, basilari per iniziare ad allenarti, con tutte le strategie migliore e quello di cui avrai bisogno per allenarti. Tutti gli esercizi sono a corpo libero, quindi non hai bisogno di iscriverti in palestra. Solo nel livello advanced avrai bisogno di qualche piccolo attrezzo facilmente reperibile. Ti spiegherò anche come. Livello beginner lo prendo a scopo illustrativo. L'allenamento beginner dura otto settimane, come ogni livello all'interno del mio programma. All'inizio trovi descritte nel dettaglio i tempi di recupero, come eseguire gli allenamenti, quindi non potrai assolutamente sbagliare. Hai anche il video completo del warm-up, il video completo dello stretching e la descrizione dell'esecuzione degli esercizi cardio, quindi le giornate cardiovascolari. Vedi che il programma è suddiviso in settimane, quindi naturalmente otto settimane. Come inizia ad allenarti, inizi dalla settimana 1. Ai vari giorni della settimana, iniziamo dal day 1, che è di potenziamento muscolare, e trovi gli esercizi illustrati con dei video full HD in modo sequenziale. Quindi uno dopo l'altro potrai vederli ed eseguirli insieme a me. Quindi sarà tutto estremamente facile ed automatico. Potrai accedere naturalmente da qualsiasi tipo di dispositivo. Torniamo indietro. Passiamo ora all'area nutrizione. L'area nutrizione è strutturata intorno a tre settori fondamentali. Puoi iniziare dal calcolatore. Il calcolatore ti permette, inserendo pochi dati, di capire esattamente quante calorie devi mangiare. Quindi sulla base del tuo obiettivo, se dovrai perdere peso, perdere peso, oppure mantenerlo, inserendo pochi dati, potrai avere un'idea numerica di quale sarà il tuo apporto calorico necessario. E naturalmente questo apporto calorico potrai ritrovarlo poi nell'altra sezione, ovvero i consigli nutrizionali giornalieri, che vedremo dopo. Quindi questo calcolatore del metabolismo basale ti permetterà di non sbagliare mai, sapere esattamente quanto devi mangiare per raggiungere i tuoi obiettivi. Hai anche un calcolatore di calorie per alimento, che ti permetterà ogni giorno di capire esattamente qual è l'apporto calorico degli alimenti che tu andrai a mangiare. Quindi, anche se non riuscirai a seguire i miei consigli nutrizionali giornalieri, potrai appoggiarti al calcolatore di calorie per alimento per scoprire qual è il tuo apporto calorico. Quindi sarai seguita passo dopo passo. Il tuo calendario nutrizionale. Dopo aver ottenuto il calcolo del tuo metabolismo con il calcolatore, tutto quello che dovrai fare sulla base del tuo risultato è scegliere quale settore dovrai affidarti, quindi quale settore risponde alle tue necessità. Quindi se il risultato per il tuo obiettivo sarà tra le 1200 e le 1300, andrai in questo primo settore, se è tra le 1300 e le 1500 in questo settore, e nell'ultimo settore se hai un fabbisogno calorico tra le 1500 kcal e le 1700. Ti faccio vedere quello che accade se accedi, per esempio, tra le 1200 e le 1300. È uguale per ogni tipo di categoria. Naturalmente, sulla base delle tue necessità caloriche, le ricette e le quantità cambieranno. Puoi scegliere tra consigli nutrizionali standard, vegetariani oppure vegani. Quindi il mio programma è strutturato per accontentare tutti i tipi di gusti e tipologie di alimentazione. Per esempio, quello standard. Ti mostro che cosa troverai all'interno. Troverai giorno dopo giorno 5 pasti strutturati in modo completo sulla base dei macronutrienti fondamentali per rimanere in forma. Sono tutti piatti all'altissimo indice di sazietà. Quindi ti sentirai sazia, nutrita e piena di energie. Quindi non è la classica dieta della fame. Faccio un esempio. Per esempio, per pranzo hai questo tipo di ricetta. Per cena hai un altro tipo di ricetta. Insomma, il programma è fatto per accontentare tutti i gusti. Quando non riuscirai a seguire i consigli nutrizionali giorno per giorno, quindi magari in giornate un po' più impegnative o magari giornate in cui non hai a disposizione gli ingredienti descritti dal punto di vista del calendario nutrizionale, puoi anche fare riferimento, se non al calcolatore di calorie per alimento, anche a ricette. Piatti fit pronti da preparare in pochi minuti. Tutte le ricette per tua comodità sono suddivise per rapporto calorico. Quindi ancora una volta sarà estremamente facile per te riuscire a seguire un programma nutrizionale in linea con i tuoi obiettivi. Quindi nulla è lasciato al caso. Hai ricette sotto le 100 calorie, ricette sotto le 200 e ricette sotto le 300. Quindi potrai accontentare il tuo palato con poche calorie e piatti estremamente nutrienti e sani. Ti faccio un esempio. Ricette sotto le 100 calorie per farti vedere che cosa troverai, per esempio, all'interno del programma. Hai per esempio la delizia al cioccolato con lamponi, la delizia proteica allo yogurt, il ghiacciolo fit, una mousse vegana, una zuppa vitaminica, le tartine di melanzana. Le ricette sono veramente tantissime e aggiornate settimana dopo settimana. Quindi il mio programma non sarà mai statico. Vedrai che una volta in cui ti sarai unita, vedrai il programma cambiare di settimana in settimana, con contenuti sempre nuovi e aggiornati sulla base delle ultime tendenze e scoperte in ambito medico e scientifico. Accediamo ora ai tuoi progressi. Quest'area è stata studiata esclusivamente per te, per tracciare i tuoi progressi, la tua evoluzione ed avere un feedback immediato dei risultati raggiunti con il mio programma. Infatti troppo spesso iniziamo programmi, non facciamo attenzione alle misure di partenza, non facciamo attenzione a come eravamo all'inizio. Quindi diventa realmente difficile calibrare le risposte corporee all'allenamento che noi andiamo a proporre. Quindi se sarai iscritta al programma semestrale, io avrò accesso direttamente alla tua scheda dei progressi, avrai a disposizione un grafico che traccerà per te i tuoi risultati e potremo insieme andare a ponderare l'attività fisica anche sulla base della tua fisicità, le tue caratteristiche corporee. Quindi anche con quest'area voglio mostrarti quanto il mio programma sia realmente personalizzato sulla base delle tue esigenze, dei tuoi progressi e sulla base della tua fisicità. Quindi ti basterà inserire pochissimi dati, potrai inserire anche delle foto, le tue singole misure e il programma traccerà per te un grafico dei progressi e un confronto progressivo delle tue foto e dei tuoi risultati. Ultimo ma non per ultimo, per chi sceglierà il programma semestrale, e quindi deciderà di iniziare un nuovo percorso di vista, quindi non solo un nuovo allenamento, un nuovo modo di nutrirsi, un nuovo schema nutrizionale, ma inizierà a configurare il mio programma come stile di vita, ho deciso di fare un regalo, ovvero i bonus. I bonus cosa sono? Sono dei programmi specifici, adattati sulla base di obiettivi target. Questo cosa vuol dire? Per esempio, quest'estate c'è bisogno di mostrarsi in costume, quale ragazza non vuole avere un programma personalizzato e realizzato sulla base della prova costume, quindi per definire e tonificare il corpo con un piano intensivo di 21 giorni. Quindi troverai la bikini challenge, la booty challenge, il nuovissimo programma dedicato per chi vuole avere il famosissimo Brazilian BAT. Quindi se sceglierai il programma semestrale, vedrai automaticamente aggiornarsi la tua dashboard con tutti i contenuti extra, quindi avrai in continuazione un continuo aggiornamento dei nuovi contenuti. Quindi se hai deciso di iscriverti al mio programma, tutto quello che devi fare è scorrere questa pagina verso il basso. Troverai tre diverse opzioni. La prima opzione è gratuita, accedere ovvero solo a dei contenuti base, standard, con i quali possiamo iniziare a conoscerci, puoi iniziare a scoprire quella che è la mia filosofia e quello che io faccio. Quindi se non sai ancora nulla di me, ti consiglio di iniziare con questa prima opzione. Seconda opzione, il programma d'accesso mensile. Con questa opzione hai a disposizione il programma completo di allenamento con video full HD, area nutrizione, mindset trainings and tips e newsletter riservata. Se invece hai deciso di iniziare un percorso, un nuovo stile di vita e iniziare attivamente ad ottenere risultati costanti nel tempo, senz'altro l'opzione semestrale è quella che fa al caso tuo. Quest'opzione è particolarmente vantaggiosa in quanto ti permette di avere contatto con me 24 ore su 24, avere una tracciabilità di tutti i tuoi risultati, una ponderazione dell'attività fisica sulla base delle tue specifiche necessità. Avrai inoltre accesso agli extra bonus, quindi bikini challenge, booty challenge e tanto altro, in continuo aggiornamento. Quindi questa è l'ultima opzione se hai deciso di rendere Bright & Fit Fitness Program un tuo nuovo stile di vita. Io ti aspetto, questo è il programma, ti mando un bacio.